Immagini dell'ortobene, la montagna cantata da Grazia Deled, Sebastiano Sata, da Montanaru e da altri. L'obiettivo di Domenico Ruiu, esposizione allestita nello storico locale dei Sacchi in Veta alla Montagna, anticipo della prossima uscita di un libro, offre scatti di grande suggestione, accompagnati dalle parole di chi quella montagna ha descritto nelle sue opere. Ma se l'ambiente, come dice lo stesso fotografo naturalista nuorese, gode di ottima salute, non così il progetto teso alla valorizzazione del monte. Il monte, l'ho detto e lo ripeto sin alla nausa, straordinario dal punto di vista naturalistico, come adesso non lo è a memoria d'uomo. Bisogna tornare molto indietro nel tempo per ritrovarlo così. Bisogna trovare il modo di dare l'abito giusto a questa meraviglia naturale. Il discorso ci porta un po' lontano, ci porta per forza al discorso dei parchi. Il discorso dei parchi in Sardegna è un discorso un po' difficile da realizzare, non solo a Nuoro, ma anche altrove, però la strada è quella. L'ostello della gioventù a Solotti non ha mai aperto i battenti. Gli unici inquilini da qualche tempo sono una folta colonia di gatti. Il complesso sportivo di Farcan è nello stato che vedete. Ritarda anche il restauro del Redentore, mentre la scuola forestale, dieci anni dopo, è ancora tutta sulla carta. Il problema così da anni è lo stesso, come valorizzare e sfruttare la risorsa orto bene.